Estate Leporanese 2019, conferenza stampa di presentazione, un programma, un cartellone molto ricco, molto variegato. Sindaco, un modo di fare cultura, intrattenimento, di far crescere il territorio? Sicuramente, anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare la rassegna Estate Leporanese e quindi siamo soddisfatti di aver allestito un cartellone che possa venire incontro a quelle che sono le esigenze di divertimento e nello stesso tempo anche esigenze culturali sia dei nostri cittadini anche di tutti i turisti che verranno a visitare il nostro territorio. Abbiamo nove eventi musicali e fra questi l'evento sicuramente di spicco è la partecipazione di Eugenio Bennato e abbiamo anche un evento molto importante che Alfio Antico e la sua band che è un maestro dal punto di vista dei tamburi a livello nazionale e anche europeo, è molto conosciuto. Ripeto, tutti gli eventi sono sicuramente importanti, abbiamo anche dato spazio a delle compagnie teatrali e quindi abbiamo in programma due commedie in vernacolo e anche due commedie che sono sicuramente molto conosciute. Una di queste è la Locandiera di Goldoni e poi abbiamo Isa de Cameron. Sono previste anche delle sagre, quindi l'enogastronomia sicuramente è in grado di richiamare molta gente sul nostro territorio e quindi come negli anni precedenti abbiamo voluto confermare anche queste sagre, c'è la sagra della salsiccia, la sagra dell'orecchietta e a queste sono anche associate delle manifestazioni, degli eventi musicali con la partecipazione di due gruppi, c'è la cover di Vasco Rossi e c'è un gruppo musicale, il Catalana Quartet. Abbiamo nel nostro cartellone inserito anche lo sport, quindi ci sono dei tornei di calcio e dei tornei di volley. Il torneo di calcio è già iniziato da qualche giorno con le semifinali e quindi continuerà nei prossimi giorni. Un evento molto importante dal punto di vista culturale e di rievocazione storica è il Vivi il Medioevo, una manifestazione che noi promuoviamo da diversi anni e che sicuramente è in grado di attirare qui molti turisti. Abbiamo iniziato quest'anno leggermente in ritardo la programmazione, questo è dovuto al fatto che sono stato eletto da meno di due mesi, quindi ho potuto iniziare a curare l'organizzazione soltanto a partire dalla metà di giugno. È la mia prima esperienza dal punto di vista dell'organizzazione di eventi musicali, di spettacoli, e quindi ho dovuto con grande piacere avvalermi della competenza artistica della mia amica Anna Colotta, che è il direttore artistico di questa rassegna e che vi illustrerà nel dettaglio quelli che sono le caratteristiche degli artisti che noi abbiamo chiamato. Anna Colotta, direttore artistico dell'estate Leporanese 2019, intanto un input, come già si legge nella brochure, che il Mediterraneo sia. Lei nella conferenza stampa di presentazione del cartellone ha sottolineato un minimo comune denominatore relativo agli eventi, ovvero sia il senso di appartenenza. Esatto, infatti come possiamo vedere nella Locandina c'è questa barca, che in questo caso ci rappresenta l'estate, e che il Mediterraneo sia, perché il Mediterraneo ha le sue acque, ci danno un'appartenenza profonda, dal sud al nord si viaggia da sempre, e quindi è la nostra grande anima, come appunto dicevo, che è il collante con tutto ciò che è la costa e quindi la terraferma e le dinamiche, diciamo, interpersonali delle situazioni. Quindi questo è l'aspetto che appunto nel Eugenio Bennato e Alfio Antico, i Waragnown, che sono dei cantori, cercano attraverso la musica popolare di conservare questi contenuti interiori, che sono la storia che riguarda, diciamo, il passato e che noi respiriamo nel presente comunque, come aspetto. Quindi poi, diciamo, non abbiamo considerato soltanto l'aspetto della musica popolare, ma abbiamo visto anche come i giovani molto bravi hanno bisogno di spazio e di poter avere la possibilità di interagire anche con le dinamiche e le condivisioni. Quindi l'inizio sarà una band che è appunto di notevole valore artistico e musicale, della Pop It's Band, che faranno musica pop. Poi ci sarà anche, subito dopo, Alfio Antico, che ne abbiamo parlato e che con il suo tamburo ci darà sensazioni ancestrali e voglia di ballare, di essere dinamico, nonostante le difficoltà delle situazioni personali. E poi è Eugenio Bennato, che è l'8 agosto, dove porta in tour lo spettacolo che si chiama Controcorrente. È già tutto dire. Tutto questo penso che possa parlare da sé, non devo aggiungere altro. Poi ci sono i Guaragnau, che è un gruppo di Altamura, dove sono dei veri cantori, dove portano la nuova ultima ricerca di Maria Moramarco, che è l'anima di questo gruppo, Cilla Cilla, che è un'evocazione di bambini che cantavano queste ninna nanne, queste situazioni. E tutto è basato proprio su testi del passato, che sono riuscite a riesumare in qualche modo da un qualcosa che non era visto e non esisteva da sempre, diciamo. Poi ci sta anche un po' di musica jazz, che ci sono in duo. In duo sarebbe un gruppo di Bologna, che appunto dicevo che la voce di Rossella Cosentino ha proprio un valore in più aggiunto, perché è evocativa, ti fa rivedere un po' le atmosfere alla Billie Holiday con il suo musicista Marco, che suona il basso e le percussioni, che ti riportano indietro nel passato. Un pochino, pur essendone in situazioni anche molto attuali di canzoni scritte da loro. Poi abbiamo anche uno spettacolo circense di musicisti, cantanti ed esibizionisti. Quindi nel loro piccolo portano questo spettacolo di grande valore, quindi darà un significato anche un po' allegro del momento. Poi ci sta chiaramente, tenendo presente anche i giovani, abbiamo detto che abbiamo una cover dei Pesh Mound, che sono di Leporano, ci tengo a dirlo perché è un valore aggiunto, perché cerchiamo di dare il meglio a Leporano, quindi abbiamo fatto il possibile. E poi musica swing con Spaghetti Brothers, dove loro porteranno proprio questa allegria, un po' retro, degli anni 30-40, vestiti in tema con ballerini, anche vestiti come appunto d'epoca, che interagiranno con il pubblico. Quindi questa è un po' tutta la situazione. Tranne l'ultimo evento, che chiaramente non è stato curato da me, però è stato offerto, come appunto dicevamo. A settembre, 15 settembre. Sì, sì, sì. A UAR con la Regione. Sì, sì, con la Regione. Questo è tutto. Poi chiaramente ci sono tanto, tanto da fare. Ci sono eventi, c'è la festa anche di Sant'Emilio, quindi c'è tanto da vedere e da visitare nella Leporano.